Ciao a tutti, la domanda di questo episodio è perché non riesco a utilizzare la messa a fuoco manuale sul Canon 18-55mm? Le prime volte che ricevevo questa domanda cercavo di trovare una risposta che prendesse in considerazione possibili errori di impostazione della macchina fotografica dell'obiettivo o malfunzionamenti sull'obiettivo stesso e invece molte volte ho scoperto che il problema risiedeva più che altro in un piccolo errore di design da parte della casa di produzione nel fare un obiettivo che è pensato come primo obiettivo perché si sta avvicinando alla fotografia per la prima volta infatti quello che molte persone mi scrivono riguardo a questo problema è che a 18mm le fotografie vengono con la messa a fuoco corretta mentre quando vanno sui 55mm la messa a fuoco comincia a non essere corretta e non hanno controllo sulla messa a fuoco quello che succede non è legato esclusivamente alla messa a fuoco il problema è che a 18mm, visto che la lunghezza focale è molto bassa la profondità di campo, ovvero l'area nitida nella nostra fotografia è molto più larga quindi non abbiamo bisogno di avere una messa a fuoco così precisa mentre quando ci avviciniamo su lunghezze focali maggiori, quindi 55mm per esempio la profondità di campo si ristringe quindi l'area nitida nella nostra fotografia è molto più stretta e dobbiamo scegliere una messa a fuoco molto più precisa quello che succede è che alcune persone, non essendo pratiche ancora con le macchine fotografiche e gli obiettivi trovando questa come unica ghiera sull'obiettivo la girano pensando di poter controllare anche in qualche modo la messa a fuoco la realtà è che sul 18-55mm quella grande è chiaramente la ghiera dello zoom che cambia quindi la lunghezza focale sull'obiettivo mentre per controllare la messa a fuoco dobbiamo semplicemente girare la parte più esterna dell'obiettivo che potrebbe non avere l'aspetto di una ghiera classica quindi per questo motivo soprattutto all'inizio è possibile non capire subito che questa è la ghiera del controllo della messa a fuoco l'unica cosa che dobbiamo fare, stare attenti con il 18-55mm è di non girare questa ghiera quando ci troviamo sulla modalità di messa a fuoco automatica perché possiamo mettere sotto sforzo il meccanismo quello che dobbiamo fare è mettere in una modalità di messa a fuoco manuale e a questo punto possiamo controllare la messa a fuoco sia se ci troviamo a 18mm sia se andiamo su lunghezze focali maggiori come a 55mm quindi a 55mm giriamo la ghiera più esterna a questa ghiera così fina e possiamo controllare la messa a fuoco questa era una breve risposta alla domanda sul perché non riusciamo a mettere a fuoco nel Canon 18-55mm come sempre potete iscrivermi su carlochiocciolaplayer2.com visitate il sito di player2lighting www.player2.com oppure iscrivetevi al forum di player2lighting www.player2.com slash forum grazie e ci vediamo al prossimo episodio e ci vediamo al prossimo episodio